Ciao, ti voglio parlare in questo video di 5 concetti che trasformeranno la tua vita e la trasformeranno positivamente. Allora, il primo di questi concetti che è mediato da fisica quantistica, teorie orientali, esperimenti pratici, diciamo, è che non hai limiti in ciò che puoi sperimentare, in ciò che puoi vivere. Puoi ottenere letteralmente ciò che vuoi, poi alcune cose saranno più probabili, altre saranno meno probabili. Alcune situazioni, alcuni vissuti avranno dei vincoli carmici, altri non li avranno. E cosa intendo con questo? Intendo che, e questo lo dimostra la fisica quantistica, esistono infinite configurazioni di universo dove tutto è letteralmente possibile. In queste configurazioni di universo ce ne sarà sicuramente una, visto che sono infinite, dove tu vivi ciò che vuoi vivere, ciò che vuoi sperimentare. Si tratta semplicemente di portare la coscienza su quella configurazione, perché le configurazioni sono un po' come l'elettrone prima che viene individuato attraverso l'esperimento, sta dappertutto. E' la nostra coscienza che ci porta su quella configurazione. Quindi noi siamo letteralmente i co-creatori della nostra realtà. La costruiamo, la nostra realtà. E' ovvio che ci sono dei blocchi. Questi blocchi, ad esempio, sono i blocchi carmici, delle azioni che abbiamo fatto in passato, che ci impediscono di fare questo esperimento. Perché magari mancano delle azioni che non abbiamo fatto e che invece ci consentirebbero di vivere questa situazione. Perché la modalità di accesso a quella particolare configurazione che prevede che tu viva quell'esperienza, perché poi il karma si manifesta attraverso un'esperienza, attraverso una sensazione di piacere o di sofferenza, è dovuta a qualcosa che tu devi aver fatto, a qualcosa che devi aver seminato. E allora devi imparare, se vuoi vivere qualcosa, a creare prima le cause e le condizioni affinché quella cosa si possa manifestare. Le cause sono delle azioni. Quindi se tu vuoi vivere l'amore, devi seminare dei semi d'amore. Altrimenti non lo vivrai, se non hai mai seminati. Se anziché amore hai seminato semi di attaccamento, vivrai situazioni di attaccamento. E queste sono le cause. È necessario farlo, altrimenti non potrai mai accedere. Come dire, voglio entrare in una porta blindata, ma non ho la chiave. Devo avere la chiave o la combinazione. E poi devi creare le condizioni. Cioè devi creare le condizioni vuol dire che devi entrare in contatto, avere l'intenzione di ottenere quella certa cosa. Perché, facciamo un esempio, io creo le cause e quindi, come dire, come se ho la chiave per aprire la combinazione della cassaforte o la porta. Apro. Però poi non spingo la porta e non entrerò mai. Quindi, oltre a avere creato le cause, quindi con delle azioni che vanno in quella direzione, voglio vivere una storia d'amore, devo dare amore. C'è poco da fare per mettere i semi. E poi devo avere l'intenzione. Però l'intenzione è spingo la porta una volta che l'ho aperta per entrare. Perché altrimenti se giro solo la chiave ma non metto l'intenzione, non spingo, non succederà nulla. Certo, avrei la possibilità di vivere qualche cosa. E questo, magari i semi li ho anche seminati in passato, non devo neanche più seminare. Però non sto spingendo la porta. Quindi prova inizialmente a mettere l'intenzione. Mettere l'intenzione è veramente fondamentale. Perché ti può da sola far scattare le cose. Se non scatta è perché non hai creato le cause. Quindi devi andare ad agire su quello. Questo è il primo concetto che devi assimilare fino in fondo e che cambierà radicalmente la tua vita. E ha degli aspetti molto pratici, pragmatici, molto utili. Il secondo punto fondamentale è che puoi eliminare la sofferenza dalla tua vita. Magari non potrei eliminare il dolore, ma l'interpretazione del dolore sì. Noi soffriamo perché interpretiamo le cose in modo negativo. Poi certo c'è un dolore fisico, ma se noi ci pensiamo bene nella nostra vita sono più i dolori mentali, sono più le sofferenze mentali che le sofferenze fisiche. Anche perché poi le sofferenze fisiche la medicina le ha studiate bene, per cui esistono tutti i rimedi. Ma invece ci lascia il fidanzato, ci lascia la fidanzata e iniziamo a soffrire. E questo è dovuto semplicemente a un'erata interpretazione dell'evento. Cioè l'evento può causare dolore, eccetera, ma lo interpreto male. Potrei interpretarlo positivamente anziché negativamente. Potrei interpretarlo in modo costruttivo, potrei interpretarlo in mille modi diversi. Mi piace sempre riportare l'esempio di Milton Erickson, che fu il più grande ipnotista del secolo scorso. Lui da piccolo ebbe una poliomelite e questa poliomelite lo rese paralitico sulla sedia a rotelle e non poteva camminare. E moltissimi anni dopo, quando era già diventato famoso, insomma, il più grande ipnotista del Novecento, un giornalista intervistandolo gli chiese ma lei come è riuscito a sopportare, a superare questa sua poliomelite che l'ha resa sulla sedia a rotelle. Poi crescendo era migliorato perché camminava col bastone ma riusciva a muoversi, ma proprio nella zona, nell'adolescenza e nella giovinezza non poteva. E lui disse, beh, quella è stata una mia grande fortuna perché non potendo muovermi, rimanendo sempre seduto sulla sedia a rotelle, ho sviluppato una grande capacità di osservazione degli altri e sono riuscito ad osservare anche i minimi dettagli e questo mi è servito tantissimo perché ho capito l'associazione tra microespressioni e stati d'animo e ho imparato gran parte di quello che poi ho elaborato come tecniche ipnotiche dovute a questi anni di osservazione. Lui ha preso un evento negativo e l'ha trasformato in positivo ma il negativo e il positivo e dipende solo dalla nostra interpretazione quindi se vuoi vivere bene eliminando la sofferenza impara a reinterpretare le cose a ristrutturarle a rimodificarle a ricambiarle perché questo è veramente l'unico modo per riuscire a vivere veramente bene la tua vita perché gli eventi capitano devi interpretarli nel modo giusto per renderli significativi e importanti. Il terzo concetto fondamentale è che se vuoi vivere l'amore non devi averne bisogno. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno diventa una dipendenza il che non significa che non lo vuoi ma quando parlo di bisogno parlo di una necessità smodata senza la quale mi sento morto. noi abbiamo bisogno di acqua ad esempio abbiamo bisogno di cibo ma poi ne mangiamo molto di più di quello che serve però abbiamo bisogno di cibo e abbiamo bisogno di acqua per vivere. Questi sono bisogni diciamo che altrimenti non viviamo. L'amore anche è un bisogno da un certo punto di vista ma nessuno ci impedisce di darlo il fatto di riceverlo se diventa un bisogno di riceverlo è proprio da quella persona lì e allora si crea una dipendenza perché l'amore è un'energia è inevitabile cioè è come dire è come uno che è un pesce che dice ah ho bisogno dell'acqua e non so come fare ad averla è la stessa cosa perché noi siamo immersi nell'energia dell'amore non possiamo non averlo e il fatto che il bisogno è proprio da pinco pallo o x y z di quella persona lì e allora diventa una necessità diventa una una dipendenza perché l'energia dell'amore non possiamo evitarla fa parte di noi ci compone siamo tutti interdipendenti e quando diventiamo invece dipendenti anziché interdipendenti che iniziamo a soffrire quindi dobbiamo slegarci da questo concetto e il quarto punto è che è collegato a questo è che per fare questo bisogna imparare l'arte del distacco del risultato distacco del risultato vuol dire che io interagisco faccio le cose al meglio se il risultato avviene è bene se non avviene io comunque ho interagito ho fatto le cose al meglio il risultato è soltanto come dire un effetto collaterale eventualmente ma la cosa importante è l'interazione cioè non è importante che io arrivo a Milano l'importante è che viaggio questo è il concetto di fondo questo vuol dire avere distacco del risultato che poi se arrivo a Milano va bene ma l'importante è che viaggio quello è il vero obiettivo e poi il quinto punto fondamentale è che ogni volta che voglio ottenere poi qualcosa perché giustamente siamo umani vogliamo ottenere qualche cosa dobbiamo avere un desiderio alto quindi un'intenzione andare in quella direzione però un'aspettativa bassa che significa il distacco del risultato e dobbiamo però anche mettere in atto uno sforzo continuo in quella direzione se io voglio che ne so fare la maratona e beh dovrò avere diciamo un desiderio alto di fare l'aspettativa bassa perché l'importante è che io mi alleno per fare questa maratona poi magari non riuscirò anziché 40 km ne farò solo 30 va bene tutto e devo avere però uno sforzo continuo in andare in quella direzione perché non è che dico ah domani partecipo alla maratona faccio 2-3 corsette da 2-3 km e poi me ne sparo subito 42 tanto l'allenamento cosa serve serve uno sforzo continuo questo è un altro concetto fondamentale dobbiamo imparare a sforzarci anche una maratona e inizia col primo passo però questo cavolo di primo passo dobbiamo farlo ecco questi 5 concetti sono fondamentali vanno introiettati perché ti permetteranno di migliorare molto la tua vita di trasformarle in modo positivo se li introietti però altrimenti resteranno soltanto dei concetti messi lì che serviranno acquisire diciamo qualche nozione in più ma di fatto non trasformeranno la tua vita se li fai tuoi invece trasformeranno la tua vita bene per questo video è tutto se il video ti è piaciuto metti un like e iscriviti al canale ti ricordo inoltre che a partire dai 20.000 iscritti ci sarà questo nuovo servizio di informazione gratuita in streaming live in cui farò una formazione vera e propria su un tema da te proposto quindi ti invito a proporre dei temi mettendo per streaming live nei commenti ad un video è il tema da te proposto il primo partirà quando verranno raggiunti i 20.000 iscritti il primo corso di formazione partirà e ci sarà un'interazione in diretta per cui potrei fare domande in diretta partirà sul tema scelto dalla maggioranza ovviamente però la cosa interessante è che essendo in diretta calibrerò poi le risposte alla formazione sulla base delle domande che in diretta verranno fatte partirà a servizio a partire dai 20.000 iscritti per avere una piattaforma diciamo così una platea sufficiente e quindi ti esorto se non lo sei ancora iscriviti al canale o se questo canale ti piace di condividerlo con i tuoi amici in modo tale che anche loro possano iscriversi per raggiungere quanto prima questi 20.000 iscritti e partire con questo nuovo servizio per adesso ti ringrazio ciao 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 ciao